Eccoci live di nuovo con un nuovo tutorial sulla price action, questa volta ho seguito un consiglio di un commento che diceva di provare a fare su qualche titolo azionario, qualcuno proprio sul titolo intesa e proviamoci, proviamo, non garantisco un profitto questa volta, come non lo garantisco mai in realtà, però non lo so, non lo so, vedremo un po' perché sapete che io vado più su altri mercati, intesa comunque negli anni l'ho tradato, qualche trade ovviamente l'ho fatto, però il carattere dei titoli azionari non è il medesimo di forex, di oro, petrolio, indici, è un po' diverso, però mi piace mettermi in gioco su questo tipo di strumenti, visto che l'avete richiesto vedremo un po', staremo molto attenti, sapete che i trend sono molto forti spesso sul mercato azionario e quindi bisognerà essere molto attenti rispetto a quello che avverrà. Come sempre prendo il replay, vado indietro negli anni, ovviamente vado a cercare di non guardare quella che è la barretta del replay, così da non essere condizionato, a parte che non mi ricordo, però insomma faccio così e vediamo un po'. Ok, sono andato, ce l'ho fatta, sono al buon novembre 2006 addirittura, quindi sinceramente proprio non mi ricordo esattamente, non ricordo nulla, ma neanche negli altri, non crediate, non crediate, io anche se faccio tre di da tanti anni, però non mi ricordo che cosa hanno fatto i prezzi. Bene, dopo aver dato un occhio ovviamente a quella che è la situazione weekly, quindi andiamo a vederla con primariamente i livelli di interesse, eccoli qua, poi abbiamo questa zona, abbiamo quest'area, che tra l'altro noto che è anche area importante ora, abbiamo delle zone qui sotto, direi che al momento i livelli più importanti li abbiamo segnati, siamo in un uptrend, un uptrend che dura da un po' di tempo, il settimanale ci mostra forza, ha creato un FTV qui, io rimarrei a cercare posizionamenti long sul daily ovviamente, ok? Bene, allora partiamo, lunedì, inside, inside, martedì una tail bar che può portare un po' giù, mercoledì su, giovedì inside, anzi, questa è inside, inside, sì, inside di quell'altra, quindi il giovedì, venerdì nuovo ritracciamento, non ci sono stati segnali di trading, mercato che mostra una mini barra spillo potrebbe riportare un po' i prezzi giù, però personalmente sarei più longhista insomma qui al momento, i ritracciamenti sono da comprare se vogliamo, quindi non ci sono presupposti, per fare degli short mi mantengo only long. falsa rottura di questi minimi, questo è un lunedì 27, se dovesse esserci un bel segnale long qui potrei comprare. Ancora un po' ribassista questa indecision, se dovesse creare una bar long così si potrebbe comprare stop sotto i minimi e provare a farsi un movimento. Allora, questo è martedì, no, mercoledì addirittura nuova indecision, la debolezza, giovedì giù e venerdì ancora debolezza, quindi il weekly, vediamo un po', ci mostra che questa ha dato giù, c'è una situazione ovviamente più short sul daily, però sul weekly siamo ancora più long, sinceramente nelle prossime giornate rimango flat, preferisco aspettare, vediamo un po'. Lunedì, martedì, tutto è inside, mercoledì, giovedì, venerdì. Allora, questa settimana sono rimasto flat, c'è stato un ritracciamento per poi ributtare giù, vediamo un po' il weekly, il weekly è ancora assolutamente inside, sembra essere molto debole per andare verso il basso, io qui sinceramente direi che voglio aspettare ancora, rimango flat un'altra settimana prima di fare qualche passo, vediamo un po'. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì. Non ci sono state ulteriori situazioni, rimaniamo in bassa volatilità, sicuramente il weekly rimane, guardate, assolutamente in bassa vola, si sta schiacciando un po' verso i massimi, queste due inside, potrebbe essere più opportuno mettersi only long, nel caso ci potesse essere un movimento verso il basso, recuperato sul daily, queste sono inside, quindi bassa vola, quindi rimango long su false rotture di questo livello. Vediamo un po'. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì. Si sale senza fare false rotture, il weekly in questo momento, vediamo un po', è inside ancora, bruttino, però anche qui, siccome c'è questo pavimento che mi piace, dovesse fare delle false rotture della mother bar del lunedì 27, quindi false rotture di 5.25, anche sul daily potrei pensare di comprarle. Cosa vuol dire? Vuol dire che il mercato va qui, che la falsa rottura recupera. Questo è un qualcosa che potrei pensare di comprare. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì. Questo è esploso senza dare nessun segnale di trading, quindi lasciamolo lì. finisce la settimana, addirittura, aspetta, giovedì, venerdì, martedì, ah, perché non c'era. Ah, è partito mercoledì qua poi, si vede, ah, è perché era il 25 dicembre. Allora, chiudiamo, andiamo a vedere la settimana come chiude. Giovedì, venerdì, sì. Venerdì, quindi chiude, vediamo un po' la settimana successiva dopo il rialzo, in questo modo. Quindi questo è stato un bel movimento rialzista, questa è una tail bar che potrebbe portare un po' giù. Questo era il livello, vediamo un po', l'avevamo segnato qui su questi massimi. Ragazzi, qui potrebbe esserci un movimento short, è stata grande vola, è il livello importante. Mi mantengo, mi mantengo only short, solo perché il long da qua non mi piace. Allora, mi mantengo only short per la prossima settimana, poi vediamo. lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì. Sono only short, quindi non ho fatto la power qui, non credo che l'avrei fatta comunque, vi dico la verità. Però vediamo un po' che succede, ovviamente, sul weekly. Weekly interessante anche per dei long adesso, però ovviamente, essendo un livello molto importante, direi di stare molto attenti a capire quello che avviene e quindi rimanere in situazione long short in base alle conferme operative devono essere buone per quanto riguarda appunto la price action sul daily. Cosa vuol dire long short? Allora, o mi va qui e mi fa una falsa rottura di qua, o mi fa una falsa rottura di questo. Uno dei due. Queste sono le cose che vorrei vedere. Vediamo. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì. Non c'è nessuna falsa rottura al momento di questi due livelli. Si crea una Power Combo Classic FTV. Il weekly è ancora sotto i livelli di 590. Io rimango con la view come prima. O mi fa una falsa rottura di qua, o una falsa rottura di là. Quindi compro qua sotto, compro se fa una falsa rottura di qua, vendo se fa una falsa rottura di là. Mercoledì, giovedì, 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 giovedì. Eh, eh. Giovedì mi fa una bella falsa rottura. Aspetto la chiusura di settimana, venerdì. Vediamo come chiude la settimana. Eh. Adesso questa settimana, vedete, fa una falsa rottura di questo massimo, crea una mini pinbar. E io in questo caso vorrei provare a vendere, vi dico la verità. Vorrei provare a vendere, è un po' pericoloso perché c'è un trend in atto. Allora, faccio una cosa di questo tipo. Guardo come si muove nei prossimi giorni. Perché se mi fa subito una barrona bianca qui, diventa una power e potrebbe ripartire. Se invece mi crea un consolidamento qui, potrei vendere con obiettivi più bassi. Va bene? Tanto al massimo non prendo il trade. Vediamo lunedì. Lunedì, va bene. Martedì, continua la discesa. Mercoledì, barra inside. Giovedì, non ce la fa. Venerdì, rimane lì. Quindi il weekly di venerdì, bello. Questo mi piace. Questo mi piace. Quindi cosa faccio? Faccio che aspetto lunedì e poi potrei provare a vendere. Vediamo lunedì. Lunedì. Martedì, vendo. Vendo su questa idea. Quindi andiamo a vedere quanto vendere, ovviamente. Qui abbiamo 5,73 e quindi mi metterei con lo stop a 6,63 qua. Potremmo vendere a 2 per 5,10. Aspetta che guardo quanto ho di stop a livello percentuale. Facciamo così. Un 7% di stop, più o meno. Un 7%, 7 per 1,7, 7 per 2,14, 7 per 1,7, 5 per 7. Facciamo così. Andiamo a vendere 15.000. Quindi quante azioni dobbiamo prendere? 250, sbaglio? Perché non sono molto su questo. Non sono i mercati che faccio sempre. No, 2.500. 2.500 per 5,73 sono 14.000. Perfetto. Allora, io ne prenderei 2.800 azioni. 2.800 pezzi. Vendo. Con stop loss di 1.100 euro. Eccolo qua, lì sopra. Ok? Vendiamo qui. Sono le... Cioè, oggi è il 6 febbraio martedì. Andiamo a vedere. Mi esegue e recupera, mercoledì 7. Giovedì mi fa una bella barra di possibile continuazione l'8 febbraio. Vediamo come chiude la settimana, venerdì. Venerdì invece tiene, il weekly, tienicchia, però mi dà l'idea che ci potrebbe essere il ritorno verso la media, il ritorno verso i 5.50. Questo mi dà l'idea, no? Per il tipo di movimento. Proviamo a vedere che cosa succede. E qui vedremo il carattere magari diverso dei titoli, però andiamo a vedere. Bene, lunedì si scende. Martedì, mercoledì, giovedì, venerdì. Venerdì ci si mantiene sempre qui, sto in leggero profitto. Qui abbiamo un livello, ovviamente. Vediamo come chiude la settimana. La settimana chiude comunque debole, c'è un leggero gap. Bisogna stare attenti a recuperi long, perché ricordiamoci sempre che siamo in una situazione long, quindi bisogna stare molto attenti a questo short. Però personalmente mi piace ancora, la falsa rottura era buona, si poteva vendere sicuramente più in alto. Ho voluto aspettare forse qualche giornata in più, ma per essere più tranquillo, sto dentro. Lunedì, inside, cioè barra bassa vola, martedì. Bello, mercoledì, molto bello, perché questo mi fa abbassare il mio rischio a zero, mi fa mettere a 12,60 euro più, e a questo punto si può provare ad andare un po' più giù. Vediamo, questo è mercoledì. Giovedì, venerdì si recupera. Si recupera, vediamo come si chiude il weekly. Il weekly chiude così, io ragazzi, chiudo la posizione e rivaluto. Quindi porto a casa una minima, quello che è i 112 euro, quindi un po' più di un break even, per carità, pensando al rischio che ho preso. Però una situazione del genere in un trend rialzista, è una pin bar, FTV, può portare su. Quindi in questo caso il mio chiude la posizione è chiudo a fine serata del venerdì e rivaluto poi quando vedo la situazione della settimana. In questo caso il lunedì sarò only long su questo, ok? Anche questa è una falsa rottura. Vado. Lunedì. Martedì si scende. Mercoledì avrebbe pagato. Mercoledì. Giovedì. Io sono only long, però ovviamente su quella là, quindi non ha più molto senso. Venerdì. È ancora debole. Anzi, addirittura è crollato bene, ha fatto una falsa, vedete, e adesso è venuto ben giù. Con una situazione di questo tipo io personalmente rimango flat questa settimana perché da qui potrebbero scatturire i long, però la situazione è ancora molto short nel breve. Quindi rimango flat, guardo che succede e al massimo poi faccio. Vediamo. Lunedì. Martedì. Mercoledì. Giovedì. Venerdì. Nulla da fare, se non che è rimasto molto debole, quindi il venerdì rimaniamo messi così. Sotto la media, in debolezza, l'ultimo swing è la settimana scorsa. Adesso, sinceramente, mi piace per cosa? Per andare più short, sinceramente. Guardate qua questo livello, più short, quindi rimango pianificato con degli possibili short se ci dà un bel setup, ovviamente. Vediamo. Lunedì. Martedì. Mercoledì. Giovedì. Venerdì. Si è scesi senza di me, è andato a ritestare il mio livello, fatto un leggero ritracciamento, questa è un po' la candela. Io su questo, sinceramente, rimango only short ancora, perché la dinamica è quella. Quindi non faccio, ovviamente, un piano long per la prossima settimana. Lunedì. Martedì. Mercoledì. Giovedì. Venerdì. Rimbalza pesantissimo. Vedete, questi sono movimenti che sul Forex, se ci pensate, non esistono. Movimenti talmente repentini e violenti che forse su Starlina Yen ogni tanto si possono trovare su questi mercati così, però guardate un po', adesso a fine settimana e rivalutare, per me questo è un mercato adesso only long che può dare nuovamente nuovi spunti. Quindi adesso per me la mia struttura è long e cercherò nei ritracciamenti solamente di posizionamenti long. Vedi quanto è importante anche cercare di andare a concludere la settimana spesso. Quindi only long nel mio piano, vediamo un po'. Lunedì. Ehi là. Lunedì è andato a ritestare, guardate un po', la zona dei 5,90 creando una tail pin bar che può portare nuovamente a dei ribassi anche imponenti. Martedì. Vediamo un po' il ritracciamento del 50 dove arriva. Zona pullback, io sono only long. Mercoledì, zona pullback. Giovedì FTV Power. Aspetto il venerdì. Venerdì tiene, vediamo come chiude il venerdì. È bellino questo qui. Questo è bellino e si potrebbe comprare l'FTV Power. Quindi io la compro l'FTV Power. Anche qui devo vedere quanto rischiare. Quindi se compro e mi metto sotto qui, ho un 9,86, fai un 10%. Voglio rischiare 1.500 euro su questo trade. Quindi 15.000, 10%. Quindi sono 25.000 pezzi, sbaglio. Non sono abituato a fare dei conti sulle azioni. Non le faccio più da un po'. Per 5,70. 2.500 pezzi, dai. Per 5,7. Sì. Quindi 2.500 pezzi. Più o meno è quello poi. Compriamo. Stop di 1.500 messi qua. Ok. Ok. Vabbè, poi vediamo dove prendere profitto. Intanto io compro. Lunedì. Martedì. Mercoledì. Giovedì. Bello questo, un bel movimento. Venerdì. Chiude benissimo dopo l'FTV Power che ho comprato. sul supporto perché era only long, vi ricordate, dopo questa dinamica. Bello. Bel movimento verso l'alto. Adesso bisogna stare attenti perché siamo su un massimo importante qui. Quindi l'attenzione è di fare veramente le giuste mosse. Allora, rimango only long, ovviamente. stiamo su un daily di questo tipo. Quindi attenzione ai ritracciamenti che possono avvenire qua. Vediamo. Potrei anche chiudere la posizione se scende. Lunedì. Allora, mi mantengo e guardo. Lunedì. Martedì. Martedì. Molto bene. Martedì. Faccio così. Mi sposto. Lo stop. Qua. A break even più qualcosa. Se continua. Vediamo. Sì. Lunedì questo era. Ah, non ho guardato. Era venerdì. Va bene, dai. C'è stata una settimana corta? No, ho sbagliato io. Comunque era long perché si mantiene sui massimi. Quindi la mia visione rimane long. Lunedì si è messi così. Alzo un po' il mio stop. Adesso qui dovremmo pensare di prendere profitto da qualche parte. Qui però siamo su massimi storici se non ricordo male. Sì. Quindi cosa si può fare? Si può andare a prendere la gamba che ha portato su. Quella di prima. Questa qua. E andare a cercare magari gli obiettivi con il Fibonacci. Primo obiettivo questo, secondo questo. Vediamo che fa. Stiamo a lunedì. Martedì. Mercoledì. Giovedì. Venerdì. Rimane abbastanza forte. La situazione weekly è questa. Molto pericoloso perché stiamo sui massimi. Però al momento stiamo a break even. Il problema di TradingView è che se mi fa un movimento molto forte mi chiude sotto. Avete capito qua. Quindi devo stare molto attento. Sarebbe giusto chiudere la posizione. Cioè manualmente no? Però vabbè. Stiamo un po' lontani. Rimango messo così. Quindi non alzo nuovamente lo stop. Stiamo in un FTV Power. Se rompe e va verso i 130-90 diventa interessante. Vediamo. Questo è, abbiamo detto, venerdì. Lunedì. Rompe lunedì. Martedì. Benissimo. Mercoledì. Wow. Mercoledì si sale pesantemente anche al di sopra dei livelli del 120-90 che però erano ovviamente massimi storici. Quindi ho messo delle estensioni. Ma questo è quanto. Stiamo a 1152 euro di profitto su questa posizione. Mercoledì. A questo punto io alzerei nuovamente lo stop qui. Vediamo se ci va qui. Se va qui chiudo completamente. Andiamo a vedere. Giovedì fa una barra di gap e poi torna giù. Ragazzi, io mi accontento e saluto tutti. Chiudo la posizione e porto a casa 1279 euro di profitto. Questo era il giorno giovedì. Vediamo come chiude la settimana. Venerdì ritraccia un po'. Vediamo un po' il weekly. Il weekly adesso è bello spinto. Ultimo swing era qualche settimana prima. Quindi rimango comunque long in ottica operativa però quindi non short però non sono a mercato. Non faccio nulla. Vediamo un po'. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì. Si sale ancora. Il weekly è ancora long. No. Il weekly è un po' short. Cavolo. No, sono andato troppo avanti. Era lunedì. Qua cos'è? Lunedì? Ah, lunedì, mercoledì. Mi ha fatto un salto qui. Si vede che c'era il... Forse era il primo maggio. Sì, il primo maggio. Feste dei lavoratori qua. Quindi andiamo a vedere tutta la settimana. Probabilmente è ribassista. Lunedì, martedì, giovedì, venerdì. Eccolo qua. Sì, ribassista perché vedete il weekly qui ha mostrato una doppio massimo lower close. Molto bello. Io segnerei questa zona. 6,21 euro. Ecco, con una situazione del genere che può creare uno swing di ribasso, a quel punto io vado a ricercare un'operatività short nelle prossime giornate perché ci può stare uno swing. Ovviamente deve essere comunque dei buoni trigger. Quindi andiamo a vedere. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì. Venerdì, 18 maggio, il weekly è assolutamente, ma ancora short, secondo me potrebbe continuare, quindi rimango only short al momento, non cerco dei long. Lunedì, urca lunedì, vedete ecco, anche questi sono gap che non esistono nel mercato del forex praticamente, cioè raramente avvengono dei gap del genere. Io ho tantissimi anni che faccio forex realmente con conti veri, non in paper trading e ne ho visti pochi, no, di gap così forti. Sicuramente situazioni straordinarie ci sono state, però sulle azioni sono più probabili. Comunque qua c'è un forte gap. Dal periodo storico, cioè 21 maggio, mi viene da dire che qui sono usciti dividendi facilmente perché la metà di maggio è spesso settimana di dividendi per molti titoli italiani, nonché intesa se non ricordo male, quindi questo ribasso probabilmente è dovuto più che altro alla uscita del dividendi. Però vabbè, insomma, questo vale poco. Andiamo a vedere. Giovedì, venerdì. Venerdì arriviamo sul livello, venerdì 25 maggio. Il weekly è devastante verso sotto, però abbiamo un mega gap qui, forse anche che si potrebbe chiudere. Io su questo adesso inizio ad avere una visione long short sul mercato. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì. Non mi sono piaciuti nessuna delle giornate. Mercato che è molto debole, però c'è questo gap, quindi rimango long short ancora e vedremo un po' cosa ci dice il daily. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì. Venerdì sì, continua a scendere, non ci sono trigger operativi. Discesa continua. Io personalmente qui, anche alla rottura di questo, sarei più short, però sinceramente non mi piace più tanto la situazione. E rimango flat, guardo e osservo. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, recupera. Questa mi piace, mi piace perché mi crea lo swing e mi crea la possibilità di andare a chiudere gap, andare verso l'alto. Nella tendenza di fondo, doppio minimo higher, o adesso sì, only long. Quindi la mia operatività in questo caso, in base a quello che sarà il daily, sarà solamente di acquisto. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì. Nulla da fare, non ci sono trigger di conferma. Si crea una barra di ritorno di ribasso. In questo caso, vista la dinamica, la mia opzione del piano è long short. Quindi solamente se ci saranno dei buoni trigger o long o short, potrei andare a fare entrambi. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì. Nulla da fare, si ritorna sui minimi, c'è molta debolezza. Questo è il weekly. Direi che il weekly addirittura si potrebbe pensare a only short, visto che stiamo sotto i livelli. Quindi rimango solamente shortista, nel caso in cui ovviamente ci saranno dei presupposti per shortare. Lunedì, martedì, mercoledì. Scusate, ma ho il mouse che... Ok, questo è mercoledì, giovedì, venerdì. Nulla da fare, il weekly rimane molto debole. Guardate un po' questa inside al di sotto del livello 5,60. L'idea è quella di cercare nuovamente degli short, quindi only short. non da trigger, quindi lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì. Si sale e fa ritracciamento. Il weekly crea una pin bar senza falsa rottura dei minimi precedenti, però interessante. Sinceramente in questo caso mettermi short è un po' difficile, però potrei tenere long short, perché a volte queste pin bar che non fanno falsa rottura fanno questo, per poi venire giù, no? E tornare sui livelli. Quindi potrei pensare di rimanere sempre long short in base ovviamente alla price action. Mi fa una bella falsa rottura dei 5,59, 5,60, perché no? Si potrebbe pensare, vediamo. Martedì, mercoledì, giovedì, venerdì. Venerdì crea una FTV doppio massimo lower, è quello che dice, vedete, falsa rottura del massimo. Io qui potrei pensare di vendere, potrei pensare di vendere. Solo qui lo stop, bisogna metterlo almeno a 5,80, perché se io vado a fare qua la vendita, a 5,80, e se potrebbe andare a prendere profitto, poi bisogna vedere questa zona. È un po' attaccato, eh? No, preferisco star fermo al momento, perché è troppo, troppo attaccato. No, sto fermo. Sto short ancora, ma non vado a vendere questo. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì si riparte, un pochino. Quindi il weekly è messo così, crea una spike, potrebbe riportare su per poi ributtare giù. In questo caso sto long short sul mio piano. Vediamo un po'. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì. Comunque si erano staccati i dividendi, guardate un po', vedete? Lunedì, 21 maggio 2007, quantità 0,38, bla bla bla. Vedete? Ecco perché era sceso. Gli earnings erano caduti proprio il 15 maggio e il dividendi quando c'è stato il gap. Va bene. Andiamo a vedere un po' che succede sul weekly. Il weekly crea una tail bar che va a ritestare questi livelli. Io personalmente rimango only short su questo mercato per la prossima settimana. Vediamo un po'. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì. Giovedì bello questo qui, eh. Questa è una bellissima falsa rottura di questi massimi. Arriva al di sopra di questi livelli, ma molto in linea con il settimanale. Farei una cosa, visto che siamo a giovedì e siamo vicini al livello, vediamo come chiude il venerdì. Viene giù. E vediamo come chiude la settimana. Mamma mia. Enorme la dinamica. A questo punto io su questa dinamica qui tenderei a essere shortista. No? Questo è giovedì, venerdì, sì. Shortista. Perché ha un bellissimo weekly con una falsa rottura. Io con un weekly del genere direi che si potrebbe tentare a muoversi verso l'alto. Falsa rottura dei massimi. Secondo me ha senso. È stato praticamente fatta la falsa rottura qua. Magari con questa spike può essere che lunedì stiamo qua e magari compriamo meglio. Proviamo a vedere lunedì che succede. Allora, lunedì si sale. Si sale anche bene. Vediamo anche martedì che succede. C'è debolezza però, eh. Dai, allora, provo a vendere con uno stop non troppo enorme, sinceramente, perché non ha senso in questo caso. La falsa rottura c'è stata. Un 6% di movimento al massimo. 6% vuol dire... Sempre... Prendi un attimo che cancello qua. Ah, ok. Vuol dire che devo andare a prendere... Allora... Stiamo a quanto qua? 5,60. 5,60 euro. Quindi... Prendiamo sempre la calcolatrice. Se io compro... 3.000 pezzi per 5,6 fa 16,8. Mi hanno detto che abbiamo un rischio di... 6%. Da poco. Ah, io metto 5.000 pezzi qui, ragazzi. 5.000 pezzi. Vendo. E metto uno stop loss a 6. No, troppo, troppo. Eh, ho preso un po' troppo. Facciamo così, a 1.500, dai. 1.300, 1.350, questo. Ok? Facciamo così e vediamo se andiamo verso il basso. Questo è martedì, mercoledì. Vediamo un po'. Mercoledì, Gappone. Non mi piace tantissimo quando c'è un stigap. Stiamo un po' attenti. Comunque, mercoledì, Gappone. Giovedì. Oh, aiuto. Ah, mi ha ripreso lunedì. Lunedì, guardate come recupera, vedete, questi gap. E questo è un po' il brutto, diciamo, delle azioni. Quindi, io personalmente, con la chiusura del genere, non mi piace tantissimo, perché vuol dire che il weekly non è stato bellissimo. Non posso vederlo, perché... Vediamo un po' cosa fa martedì. Consolida su questo livello. Non mi piace. Non mi piace. 135, li chiudo e incasso la mini perdita. Non mi piace, perché probabilmente questa dinamica può portare su. Quindi, aspettiamo un attimo, vediamo come chiude la settimana. Mercoledì, giovedì, venerdì. Rimane molto inside. Venerdì, vediamo un po'. Il weekly, vedete com'è? Tiene, fa minimo sotto, è vero che fa massimo sopra. Però, attenzione che c'è un pavimento qui. Quindi, io qui rimango, sinceramente, long short, però ho bisogno di nuovi segnali, nuovi trigger. Vediamo un po'. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì. Nulla da fare, il mercato è ancora tutto inside. Una situazione un po' particolare in questo caso. Inside, rimango sempre long short. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì. Sarebbe sceso poi alla fine, però era un po' un terno all'otto, un po' una scommessa. Personalmente, ho preferito fare l'uscita. Eccolo qua, movimento molto repentino verso il basso. Guardate da quella, eh, da quella... Cos'era? Una reversa? È una figura reversa, l'altro lato. Dopo il massimo una figura reversa, l'è sceso veramente tantissimo. Adesso qui, anche se siamo sul livello, la mia idea deve essere solo short, ovviamente. Dopo una dinamica del genere. Only short. Anche se abbiamo bisogno di un buon trigger. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì. Tiene i livelli. Il weekly è impostato così, non dà più di tanto. Io rimango only short ancora. Stiamo sempre su questi livelli, non c'è molto da fare. Vediamo un po'. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì. Venerdì. Vediamo il weekly che fa. Weekly si mantiene sopra, crea un movimento enorme verso l'alto, però bruttino per una questione long. Preferisco lo short, visto lo spike, visto la ripresa dallo swing. Vediamo un po'. Sempre attendiamo, ovviamente, dei trigger buoni. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì. Venerdì, bassa vola. Il weekly è messo così, inside. Rimango short, idealmente, se fa dei trigger. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì. Zona trigger potrebbe essere questa o comunque questa. Il rialzo è stato molto forte. Recupera anche il livello 5.60. Quindi, in questo caso, sinceramente, sarei long short nell'ottica di piano operativo, perché su questo livello potrebbe venersi a creare molte, molte false rotture per uno short, però sta riprendendo il livello in una fase long più ampia. Oddio, che succede? Ok. Mi ha tolto il mio gain. Vabbè, comunque intorno ai 1.200 dollari. Vado sul daily. Si è un attimo sconnessa, si vede la connessione. Vabbè, comunque, poco male. Quindi, abbiamo detto, facciamo long short qui. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì. Recupera. Interessante questa situazione. Che potrebbe portare su il venerdì messo così. Vediamo il weekly come chiude. Per fare un po' attenzione a questa inside, vediamo, io ti rimango long short anche qui. Vediamo un po' come si comporta qui. Lunedì scende. Martedì, mercoledì, giovedì e venerdì. Bellino questo, vediamo il weekly. Bellino questo perché potrebbe far ripartire il prezzo verso l'alto. Sinceramente. Però siamo ancora abbastanza pesantiti. Io su questo, sinceramente, sarei long short ancora, se non flat. Però forse long short, sai, mi piace di più. Long short, vista la dinamica. Qui sta tenendo questa zona, però è sempre molto da attenzionare. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì. Venerdì crea una buona tenuta. Anche, guardate, confermato da un weekly che tiene il livello. Molto debole la situazione, però. Quindi long short ancora. Vediamo che fa lunedì. Vediamo martedì. Mercoledì, giovedì, venerdì. La situazione non mi piace ancora. Ora forse è più short, sinceramente, infatti. E io qua, personalmente, sarei per andare a vendere, andare verso i 5. Vediamo un po' questo. Questa, vediamo se ci dà la possibilità di entrare short. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì. Ah, ho sbagliato. Vabbè, comunque eravamo short, quindi ancora stiamo only short in questo caso. Siamo già passati a lunedì. Martedì, mercoledì. Mercoledì, mercoledì. Questa è una bellissima outside bar, FTV. Classic power combo. 14.9.2007. Vendo, vendo assolutamente in linea con il settimanale. Stop di quanto? Adesso ve lo dico subito. Di circa un 10%, quindi mettiamo sempre i nostri 2.700 pezzi, facciamo. Vendiamo qui. Stop loss, andiamo a prenderlo qui, sempre di 1.300-1.400. Questa zona qui. Proviamo a vedere se fa un bel movimento. Questo è mercoledì, giovedì, venerdì. Venerdì chiude così, il weekly chiude pesantemente, short, molto bello. Potrebbe creare un bel movimento, ok? Però mi aspetto anche dei forti rialzi. Questo è un titolo, ok? Quindi mi aspetto di tutto. Vediamo. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì. Venerdì, recupera. Poco male, stiamo praticamente messi così. Molto, molto short la dinamica. Io mi aspetterei un bel movimento short, sinceramente. Da un punto di vista, diciamo, operativo, qui, dove prendere profitto, si potrebbe andare a posizionare il doppio massimo lower qui. Questo. E vedete, questo è un livello e poi successivi ci sono sicuramente dei livelli. Per questo livello qua è un livello di importanza. Poi non c'è più niente fino a qua, sinceramente. Beh, le insegniamo poi sul weekly, dai. Che giorno è questo? Diciamo, vediamo un po', aspetta che faccio così. Questo è un venerdì. Andiamo a vedere un attimo il weekly, allora. Eccolo qua. Questo. Anzi, facciamo così, così c'è anche il supporto qui. È molto più importante. Daily. Molto bene. Mi piace molto, andiamo a vedere. Rimango short. Martedì, mercoledì, giovedì, venerdì. Mercato che recupera molto bene il mio eseguito. In questo caso, guardate che cosa fa. Si va a recuperare tutto il movimento. Però rimango ancora short, sinceramente, con l'idea ovviamente di gestirla. Perché adesso dobbiamo gestirla. Questo è un livello molto importante. Vediamo un po'. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì. Rimaniamo ancora sopra. C'è molta forza. Vediamo che fa. Ovviamente qui starei long short, però sono prima di tutto short, quindi devo gestire la posizione. Però nell'operatività long short. Vediamo. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì. Si ritorna su quest'area. Se mi rompe nuovamente qua sotto, mi sposterò con lo stop qui. Il weekly fa un movimento di questo tipo, interessante, per una possibile continuazione, devo dire. Vediamo. Lunedì, martedì, mercoledì. Quindi giovedì, giovedì, attenzione, attenzione, giovedì, recupero il livello. Abbasso il mio stop. Nostra. Qui lo porto a 990 euro invece di 1.500, circa 1.400, quello che era. e vediamo un po' che succede. Venerdì, weekly. Bene. Weekly recupera, è molto bello, potrebbe adesso farla sparata giù. Vediamo se la fa. Martedì, mercoledì, giovedì, venerdì. Quindi, molto interessante quello che è avvenuto, ci stiamo riavvicinando al nostro prezzo di carico. Il weekly è sempre molto interessante e continua la fase negativa dopo il grande rimbalzone, però grazie al nostro stop paracadute ampio ci ha permesso di gestire le cose con la giusta emotività, diciamo. Andiamo a vedere lunedì, rimango short. Martedì, mercoledì, giovedì, venerdì. Bene, intanto siamo ritornati molto messi bene. Il weekly crea un movimento verso il basso, è vero che crea una pinbar qui, quindi mi manterrei long short, però la gestione dell'operazione short secondo me ha senso mantenerla. Siamo comunque, questa non fa falsa rottura dei minimi precedenti, crea solo una presa di profitto sotto. Sinceramente mi piace il tipo di dinamica short che si sta creando e potrebbe creare un bel movimento ribassista. Vediamo un po'. Lunedì, martedì, quello che pensavo. Guardate che bella questa pin e poi martedì si crolla. Se scende sotto qua mi sposterò nuovamente. Quindi abbiamo martedì, mercoledì, giovedì, venerdì. Con venerdì sicuramente sposto il mio stop qua sopra, quindi nuovamente abbasso il mio rischio. Sto a profitto di 675 euro. Il weekly conferma pesantemente il mio short. A questo punto mi mantengo in ottica short e vedo un po' quello che si sta creando, no? Quello che sta succedendo. Quindi andiamo un po' a vedere. Lunedì. No, vabbè. Lunedì è crollato. Lunedì è crollato, 1350 euro, ne avevo altri 1200 prima, che però mi si sono cancellati perché ho avuto un attimo di connessione connessione che non andava. Però, però, è bello questo qui. Adesso dobbiamo capire perché io ho un livello qui a... Che giorno è questo? Era venerdì? Ah, era lunedì addirittura. Lunedì? Qui sarebbe da portare a casa, eh? Sarebbe da portare a casa. Vediamo se mi arriva sul livello, dai. Martedì? No, vabbè. Esco con 1093 euro. Chiudo posizione. Ovviamente ne avevo già 1000 prima, 1200, 1300, quello che erano. Quindi, comunque, si è fatto molto bene. Su queste tre operazioni, perché una l'ho chiusa poi leggermente negativa, poi dopo sarebbe andata, però non era più in linea un po' con il piano. Questa situazione, in effetti, può portare nuovamente su, perché sul livello chiave si è creata una volatilità enorme. Questo è martedì, mercoledì, giovedì, venerdì. Quindi chiude ancora negativo, se vogliamo. Guardate un po'. Era molto importante, vedete, seguire la dinamica di trend che c'era su Weekly. Vedete la differenza anche col Forex, questo, eh? I gap e tutto. Quando io ho venduto, qua circa, avevo lo stop qua sopra. Lui mi è tornato indietro pesantemente, però non aveva ancora fallito, in realtà, la view short, se ci pensate. Ecco l'utilizzo dello stop paracadute, o anche qualcuno l'ha chiamato stop psicologico, perché ci ha permesso poi di tenere un'operazione in profitto. Voi provate a pensare, quando si parla di risk reward, no? Ah, rischio 100 e ottengo 1.200. No, risk reward di 1 a 12. Sì, e poi quante volte perdi? In questo caso, il mio iniziale rischio era quello che era. Una posizione del genere sarebbe stata chiusa 10.000 volte in stop, in perdita, e invece così si è chiusa con un ottimo profitto, gestendo lo stop paracadute. Tutta un'altra cosa. Bene, allora, siamo quasi un'ora qui insieme. Io direi che per oggi è tutto. Vi chiedo ovviamente di lasciare un mi piace, di iscrivervi a questo canale, e di attivare la campanellina se ancora non l'avete fatto. Di scrivere nei commenti quello che volete vedere, magari in questi tutorial. Io vi auguro un buon trading simple, una buona settimana, e per qualsiasi cosa potete scrivere a infochiocciaierforex.com. Ciao.